Avrebbe acceso tre focolai in un canneto, ma sarebbe stato colto in flagrante da un drone in dotazione alla Regione Calabria e utilizzato nel progetto Toleranza Zero. Un uomo di Curinga in provincia di Catanzaro è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della stazione di Curinga e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Girifalco. La vicenda risale lo scorso 23 luglio, in una settimana caratterizzata da un alto rischio di incendi a causa delle elevate temperature che in quei giorni si sono registrate. Da quanto emerso dalle indagini, la persona arrestata è stata sorpresa dal drone alla base del canneto posto in località Scarcia, nel comune di Curinga, mentre appiccava le fiamme. L'uomo, in base alle immagini registrate, aveva anche tentato di colpire con delle pietre il drone nell'intento di neutralizzarlo. L'arresto è scattato in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme a seguito delle attività investigative condotte dai carabinieri forestali NIPAF di Catanzaro, in sinergia con la presidenza della Regione Calabria.